carissimi e carissime youtuber tanto grazie di essere su questo canale oggi non nessuna traduzione è solo si tratta solo di alcune considerazioni visto che la mia figura è nitida mi si può trovare contattare tranquillamente sul web basta cercare poco e vedo che tante persone lo fanno questo video è per mettere al corrente gli iscritti non vi aspettavo così tanto e non era mia intenzione sollevare tutta questa cosa però se l'argomento interessa perché non andare a approfondire innanzitutto io stesso sono alla ricerca di qualcosa che sia verosimile plausibile concreto non sono certo che tutto quello che ci hanno insegnato che ci stanno mostrando dai mass media sia la realtà o meglio magari è realtà fino a un certo punto rispetto tanti scienziati che stanno facendo hanno fatto delle cose molto belle ma non tutti gli scienziati sono esattamente nel vero questo video per un po per perché sono indispettito sono indispettito per la gente che mi telefona chiedendomi se credo in dio mescolare la religione con il fatto di constatare che una cosa sia piazza o anziché sferica non è sferica secondo me che mi si venga a dare del fanatico perché fanatismo vuol dire andare a convincere gli altri andare a bussare le porte andare a suonare i campanelli andare a dire no io sono nel giusto e tu no non faccio questo io propongo delle delle traduzioni dei fatti poi ognuno è libero di andarsi dal canale il canale non è mio è di youtube io sono un iscritto perciò tutti gli iscritti possono fare le stesse cose si pubblicano il loro bel video sul loro canalino e dopodiché otterranno anche loro i vari commenti ai quali poi dovranno per correttezza rispondere la cosa che mi ha infastidito torno a dire è il fatto che qualcuno si sia permesso di telefonare direttamente spacciandosi per giuliano che poi ho scoperto che non è giuliano ma un altro nome cognome di cui non è giusto andare a dire parlando di dio poi nei commenti ovviamente ha scritto invece di studiare i testi antichi studia la fisica la stu la fisica l'ho studiata quando quando ero giovincello adolescente ero anche molto bravo come lo sono adesso perché non è che studio ancora la fisica ma le cose di base le ho e a volte non rispondo su certi commenti che sono insani quando si confronta che la terra è un ambiente chiuso si è un ambiente chiuso per quel che riguarda il sistema animale ma non certo l'atmosfera non è non ha niente che la richiude comunque tornando a noi mi si dice che sono a favore del lima dice che la terra è ferma ma cosa c'entra se uno non mangia la carne di maiale non è mica detto che non sia un cattolico un religioso anzi ne approfitto per dire che esistono tantissimi movimenti della terra piatta che sono cristiani esiste il cristianesimo della terra piatta esistono poi altri altri siti che promuovono la terra piatta che addirittura prendono in considerazione le frasi della bibbia tipo in questo caso dove parlano di isaia isaia 40 22 egli è assiso sulla volta della terra da lì gli abitanti appaiono come cavallette e gli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarli qualche giorno fa in un commento sul su uno delle su una delle traduzioni che ho fatto appare questa questo bellissimo utente il quale mi mette un link che io vado a vedere e ovviamente che cosa succede che c'è scritto egli è colui che sta assiso sulla in rosso lo leggete globo della terra ora qualcosa di religione o meglio di antichi libri testi sacri è una parola molto forte sono andato a studiarmele ma quello che è strano è che se andiamo a vedere lo stesso versetto la cei dice egli siede sopra la volta del mondo la nuova riveduta dice egli è assiso sulla volta della terra poi andiamo a vedere la nuova di odati effettivamente egli è colui che sta assiso sul globo della terra c'è una bella differenza fra volta della terra volta del mondo e globo della terra ma se andiamo a vedere la bibbia interlineare dove qualcuno qua può andare a vedere la traduzione è cerchio egli sta assiso su un cerchio se digitate cerchio in in ebraico vi salta fuori un orizzonte inteso come cerchio che è ben diverso da sta seduto sul globo anche nei proverbi cerchio sull'abisso circolo sulla superficie dell'abisso un cerchio sulla superficie dell'abisso ma anche qui c'è un piccolo errore perché non è cerchio ma è orizzonte inteso come confine se voi digitate in su google la parola dove da è stata tradotta come cerchio da parte delle bibbie in realtà è il confine pertanto giusto per mi sembrava doveroso portare a conoscenza queste cose perché è importante altrimenti se ognuno comincia a tradurre come vuole succedono veramente delle cose poco simpatiche anche perché potremmo andare avanti con queste cose ma ci sono persone molto più capaci molto più colte di me che hanno studiato i testi antichi ad esempio il libro di enoch è stato tolto ma in realtà nella genese 5 24 si parla di enoch se voi leggete il libro di enoch capite esattamente come funziona la terna piatta buona visione buona giornata buona serata a seconda del momento che state vedendo questo video grazie di essere qui e spero che di sentire dei commenti positivi meno positivi ma concreti non sei uno stupido non capisci niente o parole denigratore che vengono automaticamente buttate nel cestino dal sistema automatico di youtube grazie grazie a tutti